Quindi non vorrei essere interrotta, ricordavo che il cara di Minevo è costato 100 milioni di euro. Abbiamo visto lo scandalo delle cooperative che in Buzzi e Carminati per telefono si dicevano che queste cooperative, che il traffico di uomini è diventato più succulento di quello della droga. Allora a questo punto i partiti e chi ha mangiato e chi mangia su questo deve assolutamente dare conto ai cittadini. Perché queste situazioni diventano bacini elettorali. Lei non sa che farà già il mercato gruppo? Ah, questo mi piace, la campagna elettorale mi piace. Lei e noi abbiamo fatto approvare in Parlamento una mozione per il superamento del regolamento di Dublino che prevede che le persone, che i richiedenti asilo debbano essere scremati non in Italia ma nei paesi di origine o di transito. Adesso questa Europa che è l'Europa delle banche, della finanza e degli egoismi dei singoli paesi chiaramente scarica il problema sull'Italia e sul primo paese che si trova il centro del territorio. No, tra l'altro vorrebbero scremare le quote in Italia mandando funzionari dall'Europa. Però lei non sa che il suo capogruppo, un certo Farage, è anche amico delle banche e voi fate parte di quel gruppo e lo stesso Farage è quello che non vuole cambiare la convenzione di Dublino. Non confondiamo le carte. No, 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 voi siete in quel gruppo. Io sto parlando sui fatti. Voi siete in quel gruppo dove l'Inghilterra non li accetta, dove Farage ha detto che non li vuole, dove Farage sulle banche ha detto. Parliamo di fatti concreti, non parliamo dell'Inghilterra, parliamo dell'Italia, parliamo di quello che si combina in Italia. No, 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 però per favore, Farage è il capogruppo delle lecce in hotel e parla dell'Inghilterra. Allora, amici miei, nulla di personale qua dentro, mannoia da morire, qualsiasi questione vi ho interrotto. Mi ricordo l'eurodeputata, evidentemente, bisogna ricordare l'eurodeputata che all'interno di ciascun gruppo si può anche votare in dissenso. Eh, non avete votato in dissenso. Le ricordo che in Europa funziona diversamente. Non avete votato in dissenso. Ah, insomma, e basta. Non avete votato in dissenso. Allora, scusa, fermo, no, ti fermo, che cosa mi fai vedere adesso? Non avete votato in dissenso. No, allora, non mi fai vedere nulla? Dopo, ci arriviamo.